E' la nostra festeggiata, Debora Nebani! ci facciamo la spirata ancora un applauso e ci aggiungiamo l'urdo l'applauso di Roberto che risolto si dice che questo è il primo vento da maggior N, però questo sarà l'ultimo vento da miglior N, con il Papa ragazzi, dono forte l'applauso prima piano cominciamo a derivare tutti i amici, paretti, muoviamo tutti i torno ok? e certo, e certo diventa sempre più grande lasciamo un po' di spazio anche per i nuovi la prossima è a sorpresa è il primo tutto qui, ma Grazie a tutti. 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 Uno, due, tre, poi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ora... E... 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti